Stefano Taglioli, furti sistematici all'interno della riserva marina di Vasto di Uova di Fratino. Si tratta solo di furti, di vandalismi, insomma come definire questi gesti e con quali finalità secondo lei? Non solo nella riserva marina di Vasto ma anche a Vasto Marina e a San Salvo Marina. La cosa è molto preoccupante perché si è passati da atti di vandalismo e quindi con distruzioni delle gabbiette che proteggono i nidi e delle stesse uova a dei furti di uova che sono una cosa un po' diversa che fa pensare a una sistematicità di questo atto criminoso nel senso che il furto di uova rispetto al vandalismo ha un significato più importante. Quale in particolare? Il significato è legato alla presenza del fratino e alla presenza dei volontari che trattano in fratino visti come un elemento di disturbo o di impedimento a chissà che cosa. Non abbiamo prove precise per poterlo dire. Del resto anche la nostra stessa denuncia è limitata delle possibilità, chiamiamole così. È stata presentata a quale autorità questa denuncia? È stata presentata soltanto per ora all'autorità circondariale marittima ed è chiaramente l'atto conclusivo di una serie di episodi che sono iniziati già l'anno scorso e che quest'anno hanno raggiunto l'apice con il furto di uova su cinque nidi. Quest'anno abbiamo avuto solo cinque nidi sulla costa e altri episodi si sono verificati anche nel nord dell'Abruzzo in aree storicamente segnalate per la nidificazione del fratino il che fa anche pensare che queste aree siano conosciute appunto per questa cosa e siano oggetto di questi atti criminali. Aree invece meno conosciute e che però hanno avuto un bel successo per la riproduzione del fratino non sono state oggetto di questi atti e speriamo non lo siano in futuro. Claudio Allegrino, coordinatore delle guardie volontarie del WWF abruzzesi. Questo fenomeno dei furti di uova di fratino è un fenomeno circoscritto solo a vasto albastese oppure è un fenomeno più ampio? Beh è un fenomeno che riguarda sicuramente tutta la regione Abruzzo ma abbiamo potuto verificare che in quest'ultimo anno o due anni nelle spiagge di vasto di San Salvo si sta accentuando in maniera molto importante. Probabilmente c'è ancora chi ha paura del fratino di questo cellino e il nostro obiettivo è proprio questo, cercare di far superare queste paure e cercare di spiegare che il fratino invece è una risorsa non solo ambientale, non solo naturalistica ma soprattutto una risorsa per il turismo locale. Ecco, atti che sono diventati ormai praticamente sistematici, secondo voi cosa c'è sotto tutto questo? Secondo me c'è probabilmente la paura di qualcuno che, ripeto, vede in questo animale un impedimento alle proprie attività. In altre regioni italiane il fratino viene visto invece come un elemento aggiuntivo che permette di attirare fasce di turismo più sensibili alla naturalità del territorio. Infatti il fratino è spesso il simbolo di ambiente pulito ed incontaminato. E infine come si può combattere e controllare, quindi limitare questo fenomeno? Beh, sicuramente l'aspetto repressivo è importante ma ancora più importante, repressivo perché rubare o danneggiare uova o pulli di animali selvatici è un illecito penale, quindi è un reato. L'aspetto repressivo è importante ma ancora più importante è sicuramente quello dell'informazione alla cittadinanza. Quindi è molto importante spiegare il valore di questa specie simbolo. Grazie a tutti.